I did all alright Had no need to fight Tonight Bene ragazzi come siamo ritrovati dal mio canale Bentornati signori su Rainbow Six Oggi finalmente è uscito l'aggiornamento I rinforzi di metà stagione Andiamo subito a vedere una migliore importantissima ragazzi Che non è il Capkan Non è il Blitz che già vi ho fatto vedere Ma è lui ragazzi Jäger guardatelo Che bello ovviamente Capo di Square non può non averlo già comprato No per l'amor di Dio ragazzi è veramente fatto Benissimo e soprattutto mi piace un botto il ciondolino Cibi Jäger Elite guardate che bello che è Veramente fantastico ragazzi Andiamo a vedere le migliorie che ci sono state In modo molto rapido da quel che mi ricordo Allora Ela da 4 a 3 trappole Molto importante questo E soprattutto anche il caricatore No è sempre da 50 è diverso il rinculo È una roba solo il rinculo è cambiata Non sono una guida ragazzi quindi dico quello che mi ricordo Quindi è cambiato molto il rinculo dell'arma di Ela È da 4 a 3 trappole E in più hanno aggiunto ovviamente le 5 trappole di Capkan Dove praticamente toglie 50 No 50 a chi ha uno di corazza Nella fazione avversaria Quindi tanta roba che questa ragazzi Hanno poi dopo messo Aspetta che qua ci devo mettere assolutamente C'è già Ok E poi dopo il blitz Ragazzi come sapete è cambiato Ora va con lo scudo avanti Altra novità molto importante Non guardate il nato limitato ragazzi Perché è un problema mio adesso che ho Devo aprire le porte e ci metto un attimo Da quel che ho capito ragazzi I ping è molto molto cambiata Le connessioni sono molto cambiate Infatti adesso andrò Anche da quel che mi hanno detto i miei amici Che ci hanno già giocato oggi Soprattutto anche Ha cambiato molto Il sistema dei gradi Insomma Quanto ti tolgono quando perdi E quanto vinci Quanti punti ti danno quando vinci Insomma ragazzi Avete capito Ok Lasciate un commento signori Mi raccomando Ci sono anche le sfide di Caveira E di Twitch Per il compleanno Che sinceramente Me ne fotte un cacchio E io sono molto più Adesso Qua regà Vorrei prendere Jäger Magari l'ultimo round Sarebbe figo Se già non riesco a prenderlo Però Raga devo aprire le porte del Nat Se no Ok ci ha trovato subito la partita Raga ho aperto Nat Subito Schizzato Artificieri ragazzi Artificieri Quindi attenzione Ovviamente a livello grafico Non è cambiato nulla Andiamo a prenderci Blackbeard Voglio spawnarla Già subito col blitz Quello là Pensare che si è cambiato tanto E zio Andare a dar fastidio Sulle finestre Però Se sono su Però bisogna stare attenti Alla porta giù Che sicuramente usciranno Guardate Guardate le connessioni ragazzi Siccome non sono uguali a prima Cioè Siccome sono uguali Esattamente uguali a prima Ma Però sembra tutto più fluido Anche secondo Tony Dice che è più fluido Boh Mi sembra strano Adesso vedremo Ok Partiamo ragazzi Siamo molto attenti Perché questi escono Soprattutto mettono anche Le telecamere Il babbucchione Ok Ho sbagliato spawn Tanto per cambiare Mi prego Non uscite mo Perché è diventato matto Comunque Oh L'hai aperto eh Occhio eh Sì raga Voglio dargli fastidio Con Però Secondo me Escono da là Beh Diciamo che Non è stata No Come mossa Raga Questi mo Escono Dai Spacca tutto Guarda il kapkan Che cacchio Mi sa che stanno sparando Ho atterrato Ok Ha già lasciato la partita Quello là Oh l'ho visto Ma cazzo Planta Ma cazzo Non è Ho capito Vabbè Bene bene Dai due chie me le son fatte Raga Buono Mi sembra che sia Una squadra anche abbastanza fortina Questa E di là Già una quittato Benissimo Ora prendiamo il kapkan Speriamo di fare la speedrun A questo proprio La connessione niente È zero Comunque raga Sembra che Avete visto il colpo Che ho fatto su Eila Probabilmente l'avrei fatto Anche A parte che non mi ha ucciso Mi sto ancora chiedendo Come ha fatto Però Allora Guardate il kapkan Se viaggia raga Vi voglio ricordare Che non si Vedono le trappole Ok C'è il filo Non si vede il rosso Sparisce Vedete Questa è tanta roba ragazzi Questa è veramente Tanta roba Tanta 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 roba Minchia raga C'ho altre due trappole C'è tanta Veramente tanta roba Veloce veloce Mi accopro qui Oh ce n'è già uno Facciamolo entrare Con calma Piano piano Arriva di qua Che smirato dato raga Che smirato ho fatto Oh mio dio Ho un dispositivo E' stato esploso Raga E mi sa che è proprio Di lui qua Raga ma che No lasciate stare Mamma mia Altra trappola Oh uno l'ho ucciso Mamma mia ragazzi Il kapkan No raga Cioè Io ho già fatto Un video riguardo Ma Buona Non capisco La mia smirata Sono veramente Imbarazzato Per questa cosa Raga IQ bisogna prendere Per le trappole di kapkan Che dite li vado da dietro Si provo ad andare da dietro raga Però non mi sono studiato Il percorso col drone Quindi probabilmente Mi possono anche fare Proviamo Occhio eh Soprattutto qua Vai tu Blitz Bravo 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 Arda te Dove cazzo Ma Power code 2 Che roba Raga Dai Ragazzi Stanno a fare tutto questo Ho trovato veramente una squadra carina Carina e dolce Certo ragazzi Che sfiga Cioè Se mi torpavo dall'altra botta Non succedeva niente Adesso provo a riprendere il kapkan Però mi metto Merino quello che uso sempre Con lui Finché se viaggia il kapkan Raga Ok Ok andiamo ragazzi Mettiamo altra carne al fuoco qua Altri due trappole Una C'è una L'ho già presa ragazzi Ce n'è uno qua Nooo un altro Fatto Dov'è che è morto Qua giù Troppo rischioso qua raga Mamma mia Se è forte il kapkan Raga Quanto mi piace Mi piace un botto Dai che vieni di qua Non lo sento Però siccome sta gattonando Vai 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 Oh oh No ragazzi Lo aspetto Lo aspetto Perché Non c'è bisogno Di andarlo a prendere Mi guardo sull'altra bomba Eh no Non ho più pari Dove sia Secondo me L'ha Non ho neanche messo le barricate Ho un pirla Buono Eh c'è l'animazione del kapkan Ragazzi Quello che volevo Potevo farmelo eh Però Qua ho fatto una gran roba Contro blitz E asce Bravo gabi squared Eccola Sbam 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 Mai fatta una volta Ma l'ho usato il kapkan Eh raga però Incredibile Mamma mia due diamanti Avevo contro Quanti punti mi dai 33 Bravo Bravo Vabbè ragazzi Vi sottovi ringrazio Grazie mille a tutti Per il supporto Lo Yeager Lo vedrete in questi giorni Tornerà anche il team Diamante Sperando di riuscire a tornare Diamante Perché sono l'unico Alla fine Perché Tony Gianco E Atomo Anche Bistare Platino 1 Però Il resto ragazzi Siamo tutti diamanti Quindi è capito di squared Tutto resta vi piaccio Come ci vediamo in questi giorni Con di nuovi video E questa sera è 18 Assessi qui Bella raga Where would I 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 Grazie a tutti.